È stata un'emozione incredibile, incredibile, perché io sotto una curva non ce l'ho mai stato, e la nostra è una curva, adesso non fate il pagavai, dopo poi sennò divento... Stai lì sotto, io non l'ho mai fatto gol, non sono mai corso sotto una curva, è stata una cosa veramente incredibile. Però, però, c'è un pelo grosso, i cento punti fatti, no, cento, no, magari. Io, il mio obiettivo all'inizio anno era provare a fare cento punti in due stagioni, però i 95 punti fatti in due stagioni non li ha fatti Pioli da solo. Li ha fatti la società, che significa che ha lavorato in un certo modo, cercando di fare le scelte migliori possibili, cercando di fare le scelte per le proprie possibilità e mettendo a disposizione dell'allenatore due squadre di buon livello, e l'hanno fatta soprattutto i giocatori. Quindi, io non posso, ripeto, che essere contentissimo e soddisfattissimo di questo rapporto, perché è una cosa che io sono fatto così, è una cosa che sento, è una cosa che chiaramente non può che farmi piacere, e non posso soprattutto che stimolarmi, che responsabilizzarmi nel mio lavoro. Però, questa è un'altra di quelle testimonianze, non ce n'era bisogno e non avevo dubbi che ho fatto la scelta giusta nell'accettare il rinnovo del contratto, ma soprattutto al diare il rinnovo del contratto, nell'essere convinto di essere nell'ambiente giusto, dove si può lavorare bene e dove insieme tutti quanti possiamo crescere.